Torna anche per questo inverno la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Napoleone. Il comune di Lucca infatti ha affidato la gestione della struttura, diventata un'attrazione ormai delle festività natalizie, alla Winter SRL di Viareggio, che la realizzerà per i prossimi due anni. L'azienda è una delle due ad aver risposto al bando per le manifestazioni di interesse aperto dall'amministrazione comunale. Il canone di concessione offerto è di 4.050 euro per i due anni di gestione.